Oggi si celebra la memoria di San Girolamo. È a lui che si deve la traduzione della Bibbia in latino. Era un profondo amante delle scritture. Girolamo stesso, prendendo in prestito una frase del Vangelo di Giovanni e una frase di Matteo, scrive in un suo testo, scrutate le scritture e cercate e troverete. Noi spesso andiamo chissà dove per cercare ispirazione e risposte per la nostra vita. Consultiamo di tutto e di più, a volte cose serie, altre a volte delle cose assurde, senza alcun fondamento. Perché non consultare ogni tanto la parola di Dio? Naturalmente facendoci anche aiutare da qualcuno e condividendo questo percorso con altre persone. Chi fa parte del gruppo del Vangelo del giorno, consulta l'app Il Messalino, ha già una possibilità in più di certo per venire a contatto ogni giorno con la parola di Dio, che non è una parola di chissà chi, è parola di Dio. E oggi ritroviamo il nostro amico Giobbe, che abbiamo incontrato nei giorni scorsi. Il brano della prima lettura ce lo presenta mentre parla con Dio. Ha deciso di rivolgersi a lui per non stare chiuso nel suo dolore, nel suo sconforto. E proprio qualche giorno fa vi ricordavo l'importanza di sfogarci con Dio, soprattutto quando siamo nella prova. Il brano però si conclude così, con queste parole che Giobbe rivolge al Signore. Ecco, non conto niente, che cosa ti posso rispondere? Mi metto la mano sulla bocca. Ho parlato una volta, ma non replicherò. Due volte ho parlato, ma non continuerò. Ogni tanto, anzi spesso, dovremmo metterci la mano sulla bocca e cercare di restare zitti, di tacere, per imparare ad ascoltare Dio. È vero, è importante sfogarci con Lui, come vi ho ricordato anche negli scorsi giorni, però dopo la nostra sfuriata occorre restare in silenzio, fare silenzio e tacere e ascoltare il Signore che ci parla, anche attraverso la parola di Dio. Giorni fa dicevo che Dio ci risponde attraverso situazioni, persone, incontri anche che possono sembrarci incontri casuali, ma lo fa anche con la parola di Dio. Impariamo allora ogni tanto, meglio ogni giorno, ad avere qualche minuto per fare silenzio, per mettere a tacere tutte le nostre opinioni, le nostre obiezioni, le nostre considerazioni, le nostre convinzioni e dire a Dio, e tu Dio, che cos'hai da dire a me? Buona giornata. Buona giornata.